momento bassissimo di televisione non vorrei ritornare su quel momento però voglio chiedervi non c'è proprio nessuna possibilità di dialogo assolutamente almeno da parte mia no se lei riesce io no grazie prego è stato un piacere posso parlare alfonso ma io stavo per parlare io stavo per parlare ma no certo se hai qualcosa da dire ci mancheremo ha fatto la pausa la celentano dunque dunque allora devo andare veloce allora tu sei come la cripto criptonite grazie tesoro tu sei la criptonite per me io non ti posso proprio vedere dopo il nostro incontro ti sei trasformata in questo personaggio assolutamente fasullo con un buonismo fasullo e noioso da guardare quindi vorrei dirti che da reginetta del gorgonzola ancora con la campagna del gorgonzola ma fammi finire alfonso almeno una volta fammi finire il discorso la regina della falsità per me tutto il tuo amore mio detto da te è solo che un complimento va bene spero di non vederti mai più nella vita ma io guarda non ti ho incontrato per 50 anni ce ne saranno altre 50 guarda serena iscriviti al canale no si Grazie a tutti